Nuova iniziativa della libreria Mondadori di Sciacca in occasione dell'estate saccense 2023. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, Franco Raso e Antonella Palazzotto hanno organizzato anche quest'anno con gran entusiasmo la seconda edizione di Libri Sotto le Stelle, rassegna letteraria con grandi autori che presenteranno le loro opere presso la sede della Lega Navale. Come l'anno scorso una manifestazione alla quale abbiamo invitato veramente grandi autori e parleremo di libri veramente belli, sono tutte storie, una più bella dell'altra. Siamo andati fino al Salone del Libro di Torino per invitare questi autori, molti di loro hanno accettato di venire e quindi li proporremo in un periodo che va dal 16 luglio al 10 settembre, 2021 e nella magica atmosfera della Lega Navale dove eravamo già stati l'anno scorso. Oltre agli appuntamenti alla Lega Navale, la rassegna contiene quest'anno anche un evento speciale in programma il 27 agosto a Caltabellotta quando Libri Sotto le Stelle sarà presente alla rassegna letteraria Pacefest. Fare rete nella cultura è un elemento essenziale e noi lo abbiamo sempre fatto con tutti quelli che ce lo hanno proposto. Quest'anno, visto anche lì il grande successo dell'anno scorso a Caltabellotta della rassegna Pacefest, abbiamo anche noi contribuito alla realizzazione di questo evento cedendo un nostro evento. Sarà a Caltabellotta il 27 agosto e Carmen Lasorella, che molti di voi ricordano come Anchorman della RAI, giornalista veramente di chiara fama. Sono in totale sei appuntamenti, si comincia domenica 16 luglio. Inizieremo con Stefania Aleph Barzini, che racconta la storia di Rosa Balistreri, che è stata la prima cantautrice folk siciliana. Attraverso la sua vita, e solamente attraverso la sua vita disperata, si riesce a capire veramente tutto il dolore che lei ha nella sua voce. Solamente così si riesce a capire, leggendo questo libro. Poi, domenica 30 luglio, avremo Fabiano Massimi. Fabiano Massimi è autore di Se esiste un perdono, che racconta invece la storia di Nicholas Winton, che tenta il miracolo nel 1938, e ci riuscirà, di portare dei bambini dalla Cecoslovacchia, dove ancora i nazisti non erano entrati, di portarli in Inghilterra. Poi, domenica 6 agosto, avremo invece Carlo Vecce. Carlo Vecce è un filologo, è uno studioso del Rinascimento, è soprattutto uno studioso di Leonardo da Vinci. E attraverso i suoi studi ha scoperto che la mamma di Leonardo da Vinci era una donna che proveniva dall'Ucraina. Questo libro è bellissimo, è già il titolo, è bellissimo. Infatti è Il sorriso di Caterina. Poi, il giorno 19 agosto, avremo invece Ilaria Amenta. Ilaria Amenta con Io sono l'uomo nero, che racconta la storia di Angelo Izzo, che è stato uno degli autori del massacro del Circeo, ma si racconterà non tanto il massacro, quanto quello che era il momento storico in cui tutto ciò è avvenuto. Poi, domenica 3 settembre, ci sarà Cinzia Leone. Questo romanzo invece è ambientato in Israele e racconta la storia di un ragazzo italiano che andrà, diciamo, nell'esercito israeliano, si arruolerà nell'esercito israeliano. Domenica 10 settembre, invece, Francesco Recami, con colpo grosso ai frigoriferi milanesi, che è la quinta puntata di una serie che lui ha già fatto, Casa della Ringhiera, è il quinto libro che lui fa. Infine, ci sarà invece un evento speciale, quello di cui parlavamo, Carmela Sorella alle Pacefeste di Caltabellotta. Invece, questa è una storia che cerca di svelare tutto ciò che c'è dietro al fenomeno della migrazione nel nostro Mediterraneo. In occasione di tutti gli eventi, ci sarà spazio anche per una degustazione di vini. Questo grazie a tante aziende del territorio, ma anche associazioni e club service che hanno collaborato alla organizzazione dell'iniziativa. Quest'anno abbiamo il piacere di avere la Cantina Cellaro di Sambuca di Sicilia come sponsor della manifestazione. Ma devo anche ringraziare tanti altri amici ed enti che sono stati vicini a noi, perché organizzare una rassegna del genere con autori che vengono da tutte le parti d'Italia e hanno esigenze di prenotamento, di viaggio e quant'altro capite che non è facile. E quindi molti amici sono stati accanto a noi. i club service Rotary, Sciacca, Lions, Host, Fidapa, Innerwill, l'Università della Terza Età Unitre, il Polo Mediterraneo e Campus, Polo Universitario, Unipolsai di Calvagno SNC, l'Allianz Bank, che anche questo è un nostro carissimo amico, e Gulotta Living che ci ha anche dato un contributo. Devo ringraziare il Comune di Sciacca, il Comune di Sciacca che ci ha inserito nella sua rassegna dell'estate saccenza e che conosceremo tra qualche giorno. Anche quest'anno ha voluto darci il patrocinio e quindi ci darà la possibilità di avere il service a disposizione per tutto il periodo estivo. Grazie ancora alla Lega Navale che ci ospita, perché Peppino Di Giovanna è stato un amico veramente grande per noi e anche quest'anno ci dà questa disponibilità.